ciao a tutti ragazzi e bentornati come sempre qui sul mio canale angel 3 dark 3 welcome in the dark oggi per un acquisto davvero speciale e vi faccio vedere subito che cosa acquistato oggi 11 aprile mi è arrivato sto bel paccone amazon che io ho già aperto bello grosso grosso e voi direte che cacchio acquistato il dark ma adesso ve lo faccio vedere e meno male che è arrivato proprio oggi l'11 aprile perché lo aspettavo proprio per l'11 quindi puntuale meno male che è arrivato oggi e non è stato in ritardo vediamo che cosa ho acquistato dentro c'è un brown box adesso andiamo a vedere spostiamo per comodità mi raccomando ai pacchi amazon davvero belli guardate lo schifo non è che mettono il pluriball mettono sta carta di merda che secondo loro questa carta dovrebbe tenere una collector no non ci siamo proprio questo è quello che mi è arrivato questa bellissima brown box vediamo se c'è qualcosa scritto sì il pacco è numerato ne hanno fatte solo 7.350 può essere ne hanno ordinate poi non so se ci sono arrivate comunque è un prodotto numerato non pensavo ma 7.000 in tutto il mondo presumo sembra un po tanti e sto parlando della fallout anthology adesso andiamo a vedere ho giocato davvero tanto al 4 all'epoca quando uscì devo dire che mi piacque abbastanza anche se aveva alcuni problemi quel gioco aveva dei bug al day one ecco qua questo è il retro come possiamo vedere in italiano qui una collezione memorabile e completa se fallout series e oggi esce anche la serie tv su prime video di fallout che ve la consiglio di vedere io stasera me la andrò a vedere questa collezione qua contiene fallout 1 fallout 2 fallout tactics fallout 3 game of the year edition fallout new vegas ultimate edition fallout 4 game of the year edition e fallout 76 che è quello più bistrattato che diciamo non piace a nessuno però ad alcuni è piaciuto include mini bomba con suoni e 7 carte special valut boy da notare che questa edizione questa con la bomba uscì dieci anni fa però era molto diversa aveva meno giochi inclusi questa lì con l'include tutti fino a fallout 76 quindi fino ad oggi contiene tutti i giochi di fallout in più quella bomba lì non aveva il sonoro questa ha il sonoro a un tasto che si preme e si sente il rumore della bomba infatti cimili bomba con suoni andiamo a vedere il contenuto vediamo da dove si apre mi serve la cordice sono contentissimo che mi è arrivata oggi così mi guarderò la serie e poi andrò a giocarmi i giochi anzi a rigiocarmi i giochi perché molti li ho giocati sul pc visto che mi sono fatto anche il pc nuovo ah che bello ci sono questi questi adesivi così non si rovinano il tutto io questi quasi li attacco qua così poi li posso riutilizzare in futuro sembra che non ce n'è altri vediamo come si apre perfetto si apre così di sopra a tipo del plastricas faccio anche il video così per controllare che sia tutto in ordine allora vediamo un po com'è qua si apre battery installation quindi si devono mettere le batterie che è rottura di coglioni switch on switch off spero che le batterie sono incluse italiano manuale per l'utente il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio televisive causate da modifiche non autorizzate cioè ma che cazzo usare solo batterie nuove nella dimensione l'ottimamente delle batterie si trova in fondo sul dispositivo inserisce le batterie vi chiede due batterie a bottone batterie incluse alleluia ben venga cioè questo solo per tenere la bomba quindi presumo che sia tutto dentro la bomba andiamo a vedere il bombosso mamma mia che grande vedete c'è il logo questa la possiamo spostare per il costo che ha devo dire che è fatta veramente bene veramente bella anche qua i segni di usura della bomba stupendo questo è il pulsante che dovrebbe fare il suono adesso vediamo com'è ok on off fatti sotto installiamo questo oddio ho fatto una botta oddio ho fatto una botta no bellissimo risentiamo stupendo allora in confronto a quella uscita dieci anni fa questa il sonoro vediamo come si apre ecco si apre così a guscio bellissimo allora fallout special anthology bellissimo anche il suono la prima mi sembra che non aveva questo suono e non aveva tutti i giochi ne aveva solo alcuni questo invece li comprende tutti questa fallout anthology dove sono i giochi mi hanno truffato fallout tattis fallout 3 fallout invader fallout 4 e fallout 66 ok dietro questi cartoncini ci sono i giochi di fallout scaricabili pensavo che c'era il dischetto invece no peccato solo di questa cosa che sono dietro questi cartoncini qua comunque bello lo stesso alla fine edizione da collezione non mi piace comprare il codice su steam già a meno avere questi è già qualcosa molto belli tra l'altro molto 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 figli quindi look fortuna e quello iniziale forza stupendi con questo blocchettino che li tiene questi guanti sistemati così li andrò a giocare sul pc in comodità vediamo se questo lo posso mettere qua verrebbe anche più comodo da notare il logo questa è una bella cosa che hanno voluto fare questa edizione che esce in concomitanza della serie tv di prime video molto molto bello come cosa vediamo se questo ci entra pure qua no troppo alto e questa è la parte di sopra tutto in plastica rigida ok una volta che è fissato non si muove più bellissimo sto bombosso enorme bello 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 e poi la parte sicca è che ha il suono stupendo stupendo la bomba di fallout la nuke che dire una bella edizione il prezzo non è altissimo 60 65 euro non è proibitivo una bella edizione ci sono tutti i giochi in questa in questa bomba quindi è anche particolare da mettere esposta un domani per fare un reparto solo a tema fallout che sto pensando di fare quindi molto molto carina mi piace mi piace che dire un ottimo prodotto sono soddisfatto al 100% bella adesso la andiamo di nuovo a rimettere a posto come era prima mi è ripartita la bomba la sera sarà bellissimo quando per sbaglio si schiaccia il tasto e si sente sto suono io devo scappare perchè penso che mi stanno bombardando casa allora rimettiamo questo di sotto e niente è ripartito è davvero un'edizione fighissima raga bella bella perfetto questo era qui così poi ci avevamo messo questo ed era messo così questo così questo libricino era qua dentro così questo si chiude così così però mi sembra no e questo era chiuso per così davvero bello in questo place di gas che si può anche esporre così volendo che trasparente si vede all'interno com'è come detto i giochi sono questi qua fallout 1 fallout 2 fallout tactics fallout 3 game of the year edition fallout new vegas ultimate edition fallout 4 game of the year edition e fallout 76 io ho sempre voluto averli tutti in collezione finalmente ce li ho tutti peccato che i primi non sono mai arrivati su console sto parlando dell'1 del 2 e del tactics su console è arrivato solo fallout 3 e fallout new vegas questi due su ps3 360 xbox 360 fallout 4 xbox one e playstation 4 come anche fallout 76 peccato avrei voluto un'edizione così per console ma i primi non arriveranno mai su console nemmeno sull' xbox serie fix mi sembra che sono arrivati solo su pc comunque questa edizione è per i collezionisti che vogliono avere tutta la serie fallout e avere anche il feticcio della bomba che è molto molto figo che suona e potersi giocare tutti i giochi di fallout che durano veramente un bel po' e sono veramente divertenti salvo bug glitch e quant'altro direi che per 60 65 euro è un buon prezzo alla fine è una bellissima edizione e stasera andrò a vedermi come detto su prime video la serie di fallout che molti dicono che è veramente veramente figa e stupenda ne stanno parlando già bene quindi top è uscita oggi già ne parlano bene e ho saputo che amazon prime ha già rinnovato per la seconda stagione quindi top vuol dire che anche loro ci credono molto su questo progetto fallout io sono sicuro che uscirà un fallout 5 playstation 5 ormai è quasi scontato chissà quando lo vedremo perfetto questo era il brown box in cui mi era arrivata la fallout anthology allora vediamo che dice qua catalogo numero PO numero descrizione fallout anthology territorio Gran Bretagna order quantity quantità di ordini 7350 quindi io penso che ci sono 7350 pezzi presumo unit box 01 non penso che la mia sia la numero 1 può essere box id e quant'altro figata figata anche il brown box va bene ragazzi questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto della bomba della fallout anthology se volete stasera andate su prime video vi vedete la serie tv che è molto consigliata e come sempre io vi ricordo un bel pollice in su per supportare il canale un commentino in basso un'iscrizione per supportare il canale la campanellina per rimanere sempre sintonizzati su tutti i video e le live che farò e proprio come sempre ciao al prossimo video bye bye